ciao ragazzi spero siate bene questo è comunque Leo come al solito allora questo video come avrete notato dal titolo è un video insomma che mi preparo con voi che mi trucco perché io pratica adesso è mattina e probabilmente lo pubblicherò quando torno dalla visoterapia io ripeto la mia faccia insomma in realtà questa la faccio senza un figlio di trucco come vedete purtroppo queglianta la situazione è così allora sperando che non succeda niente io mi tolgo l'anello ok intanto magari insomma un po' chiacchieriamo un po' le cose allora io pronto tutto mi servite all'olio di arganna in modo che mi servirà magari insomma andranno a desidero usate ok io purtroppo devo mettere il microfono qua perché se lo metto qui là è un casino e dovrò scocitare qualcosa perché è molto difficile per me parlare senza gli auricolari allora iniziamo ah volevo dirvi una cosa premetto che mi dispiace molto per la mia assenza però non è tanto che non le facciature al piede di nuovo proprio è il fatto che sono in un periodo veramente tanto critico e tante cose insieme le decisioni il lavoro le cose da preparare i problemi con la clinica ho anche i documenti da fermare e ogni tanto mi serve anche un po' spagarmi perché altrimenti a me non mi rilessa nessuno alla fine quindi chiedo scusa i salutini partiranno da domani che farò un video adesso questo è giusto per farvi ridere con me quando mi trucco ok quindi adesso smonto un po' per mettermi a posto inizio a smontare magari quando mi inizio a truccare allora tendenzialmente io uso diverse creme che vi farò anche un video su creme tutte le mie creme da viso che non sono mai contenta allora questa era questa qua e non faccio ancora pubblicità era la linea che è una crema bio comunque niente non l'ho guardato sinceramente però è dell'equilibrio quindi penso che sia una crema bio però non è tanto che sia una crema bio è che l'ho trovata molto buona infatti guardate a seconda a seconda di quello che mi serve io cambio abbastanza le creme quindi oggi useremo questa qua che è la crema dei giardino cosmetici anche questo è bio e idrata idrata in profondità bello questo rumore allora iniziamo i preparativi quindi smettiamoci la pizza di qua e purtroppo se far così allora vediamo un po' perché non ci posso fare niente diciamo così e non se ne parla più sarò orrenda però eh scusate allora prendo il penesino ah ho fatto uno scrap prima lo faccio uno la settimana allora scusate tutti i rumori sto imparando anche un po' a truccarmi con la telecamera non è semplice non è semplice non è semplice ok e cantiamo allora allora c'è il decolte è molto importante mentre mi metto una crema mi faccio anche dei piccoli massaggi io prima la sento così la crema poi lontana dall'altro comunque non mi... questo è un massaggio antirughe che più rocco la telecamera non ho problema e ci siamo allora normalmente come baby cream io so questa qua si della buba professional baby cream dell'antità quindi però siccome la trovo ancora un po' chiara si ruba di su questa scusate Leo della Rimmel come vedete baby cream matte è così allora che mi fuori scopi di una pezzi che mi fuori scopi di una pezzi e voilà la bruttezza in persona poi prendo devo cambiare comunque devo comprare tutti i pennelli professionali tutto solo che devo ordinare all'hai perché qui vicino a casa non c'è niente allora io prima tampono così non c'è ora voi l'avete chiara ma non è chiara quindi anche se non è professionale io faccio questo lavoro questo lavoro ok 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 quindi passo questa maç di lastra che è una terra compatta come vedete il colore è abbastanza scuro Ok. E farò una cosa strana è perchè mi sono svegliata con una faccia, perchè sono prima passo colentore, ma vabbè. Allora, passo prima al correttore bianco che è questo qua, è sempre dell'astra, devo cambiare tutti i prodotti. Ora, scusate se sentite questi rumori, ma sono le mie sete che devo ricambiare. Andiamo. Ci le ho chissi la mente perchè io ho chiuso la finestra. Ok. Poi passerò a quello più scuro come correttore. E questo qua è la Dior. E' un aranciato, quindi solo così. Scusate, mi porto il naso. Ok. E allora andiamo con la parte più sottile da affonare qua. Sottile da affonare qua. Sottile da affonare qua. Ora andiamo con la parte più sottile da affonare qua. 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 Con la parte più sottile da affonare qua. Questo ce l'avevo in, è sempre della Dior, è un illuminante. e uso per star questo della Clinique se ve lo mangio a vedere ok un filino mi spiace che magari non lo vedete comunque ok illuminante di fatto quindi qua andiamo a mettere a posto l'arco qua non puoi stare tanto puntita perchè sennò non si vede perchè quando ero più giovane sono stata scema e e me le ero tutte tutte le avevo fatte figlie adesso penso che per il mio cumpleanno sarà il vero da fare troppo permanente ecco intanto l'altra viene mai quale e andiamo a fare a mettere eh no ho detto una cosa le tengo qua sono delle rp adesso vi faccio vedere i colori i colori i colori sono questi e quindi e quindi siccome devo comprare tutti i pennelli e quindi chiudo l'occhio anche sulla palpebra mobile mi trovo meglio così mi trovo meglio così è difficile quanto non sanno i pennelli professionali soprapprovedremo soprapprovedremo qui giusto giusto così ok 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 allora passiamo con la manita che adesso sto usando quella di Chanel non arrivo fino in fondo non arrivo fino in fondo perché è un po' che vuoi mi spara l'attuazione ok scusate tutti i rumori è qua eh ok 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 poi poi prendo perfumare prima questo questo colore qua chiaro valore è un po' che vuoi è un po' che vuoi è un po' che vuoi che vuoi vorrei farlo per chi farò un altro lavoro allora colore chiaro e colore scuro faccio questo lavoro perché adesso devo fare un altro uso di questo qua che ha questo poverino ecco ho lanciato tutto questo qua e una piccola palette di Sephora come vedete li sto finendo e c'è la chiavetta di qua perché si possono staccare e mettere quelli nuovi e ci sono questi colori qua però a me serve solo chiaro sopra tutto il mio faccio strac ok lo sapete che io sono distratte mi sono presa abbiate un attimo di pazienza scusatemi ma sono veramente distratta poi in questi giorni alla mattina proprio se ne discute arrivo subito grazie è il mio piede ok allora andiamo con i rim Amen ho le ciglia ribelli casino ribelli grazie grazie è grazie 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 ecco fatto intanto volevo farvi vedere l'altra volta che mi ne dimentico sempre un pezzo però i rossi non è che li amo molto che avevo preso in farmacia questo rossetto mat ed ho fatto così proprio rosso però adesso ci sono alcuni rossi rossi prima devo fare il contorno a labbra grazie a tutti ok vedo poi tu mettere l'altro ora metteremo questo qua che è un quello che vi avevo detto viola si sbatte in polvere intanto poi lo schiererò con il rosa la matita mi serve solo come traccia grazie a tutti Grazie. però siccome non trovo forte adesso per farvelo vedere io ho cosa tanto lo mischio con un po' di rosa Amen Grazie a tutti. E i soggetti l'ormale perché ho provocato lipid. Intanto che si asciuga pensi a smontarmi i capelli da pazza. Guardate. Allora. Perfetto. L'ultimo tocco finale. L'inglossi. L'inglossi. e questo questo qua è il risultato finale di una truccatrice che non è una truccatrice quindi il mio trucco è finito ci vediamo da domani non vi preoccupate non voglio che vi preoccupate sono cose della vita che uno deve affrontare sempre con questo allora io adesso devo scappare in fisioterapia perché tra le altre cose devo mettere in fisioterapia come ho detto l'altra volta per prendere leo mi sono arrampicata sono puretta dice com'è più o meno sì poi quando sono scesa ho affrontato di nuovo a caviglia così niente ho peggiorato la cosa quindi sono tutti acasciati va bene e poi insomma i nuovi i nuovi i signori di sopra hanno quasi svuotato messa a casa quindi io penso che la fine di settimana se non prima se ne andranno viva allora non ho potuto salutarvi perché tant'oro video che mi avete richiesti tantissime ma io vi mando tanti vaccino a tutti e ci vediamo domani ovviamente con i video e con i saluti allora ciao ragazzi ciao 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 ciao